Salve a tutti ragazzi della TFG on Demand Ho il personaggio nuovo Hai visto il cambio di sesso? No, no, uso la bersacca L'uso... È un uomo? Praticamente questo è un uomo Alcanza? No, no, è una besta, è forte Eh, lo so Non so usare così così Non sono proprio un mostro con questo personaggio Perché l'ho usato un paio di volte Questo è un 4 contro 4, come vedete Ah, no, è che siete suonati in un 4 contro 3 No, è un 4 contro 3 No, è il bot Ah, vengono sentiti dai bot? Sì, vengono sentiti E che non so, che voi dite Il boho ha il bot, il bot Sono forti i bot, eh Perché comunque cercano di pareggiare il livello degli altri giocatori Quindi lì sono 3, 1 e 3 Sì, ovviamente è chiaro che un giocatore normale è più forte Però i bot non sono deficienti, ecco Sono abbastanza forti Beh, comunque vedete come si tirano 1, 1, 1 e 2 Loro sono 3, 1 e 3 bot Sì, quindi, boh, vabbè Non si sa come andrà a finire Ma che maschera figa ha il sensei? Io sono questo, la bersacca Bene ragazzi, appena inizia, iniziamo Perché qua ci mette tre quarti d'ora Oh, ecco Oh, no Bellissimo, cazzo Oddio, che è successo? Tutto bene? Ehi, a posto? Ah, ma è dominio? È dominio ragazzi Hai avviato la partita e non se ne è Vabbè No, io ho fatto 4 contro 4 Ma se il matchmaking non trova partite Ti dice se vuoi mettere dominio Vedi cadere, vedi cadere giù per l'udio Intanto prendiamo B, cosa dici tu? Sì, dai Andiamo, 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 andiamo Uccidi un po' dei stronzi Guardalo lui, guardalo lui Chi è? Chi è? Dov'è? Tutututun! Tututun! Sì, gangbang! Tan! Che cazzo è? Non lo vedi? È quella con la vita rossa? Ok, è uccisa Ok Uccidi il minion di merda? Accidenti, oh cazzo quanti ne arrivano Oh cazzo Vado a prendere, vado a prendere Ah, andrò prendermi il mio amico Ah, ok, perfetto Andiamo qui Stum, tum, tum Mamma mia, stai facendo Ahia, 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 ahia E' parati, cazzo Oh, allora, un po' di scegno che mi fitte Ah, bene, bene, c'era No, c'è un senso Ah, c'è un senso Capitolo Ah, che scappato lì Ah, vado a capire quella Catturando la zona Sperta Eh, tan Devo fare così, tan, tan Stuo, no Uccidi sense che hai solo uno sputo di vita Eh, tan, tan Eh, tan Ucciso Ok Ok Ok, ucciso No Tan, tan, ucciso anche questo Perfetto E poi, in maniera Aspetta, aspetta No, vedi, bersetto, contro bersetto Vedi, bersetto, bersetto Aspetta Aspetta, dai Tan, tan, tan Tan, tan 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 Ahia Ci sono due Stai un mignon, il mignon di stare a tempo Devo rianimare il mio amico Aspetta Tan Ucciso Aspetta, adesso lo rianimo Adesso lo rianimo Eee Rianimato, ok Ok, ok Cazzo Hai visto, hai visto È pochissima vita, però Guarda, guarda Ah, è andato a uccidere i Eee Bastarda Ah, no Aspetta, aspetta Aspetta Eh, tan, 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 tan Vieni qua, brutta la starda Ah, hai visto, andava a uccidere i mignon In dietro in te Stum, tum, tum, tum No, cazzo, 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 cazzo Vieni qua Guarda che stronza Non puoi tirare lì un ascio Eh, non è, no Va a prendermi il punto A Vabbè, tu devi ucciderla Eh, ma è, se si gira mi danno, sono morto, eh Morta Morta Sono morta Meno cento punti, che ho l'abbiamo perso Avete perso B Ma porca troia, se mi amici non ci si tutta tantissimi, eh Aspetta Tan, 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 tan Tan, tan, tan Perfetto, occhio, via, 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 via Vieni qua Vieni qua, bastardo di merda Tò Esecuzione Pum Fan la testa, via Non ti serve più Non ti serve più la testa Ok, ok, ok Cosa vuoi, perché quello dei gialli? Perché se viene compito da tanti personaggi diversi E' un amico o nemico? E' un amico? 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 Tan, tan, tan Uccise anche questo Mamma mia quanto sono forte Se... Sono in una serie sanguinaria Uccidi minion qua Uuuhhh Stutto No, la bocca so Nassa attenzione Ai 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 Questo gruppo ci da lontano Da stare attento Perfetto Aspetta Ok, cazzo Ma allora Pricciamo a prendere tutto B Minion di merda? dai ok 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 sta prendendo pare là pare là sono te contro uno, arrivo 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 a dare una mano arrivo festival brutale per favore vieni qua 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 Dan 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 Dai 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 vieni qua bastardo Toaa morto bastardo wow ohoo quanto sono potente, forca p***a Vado a prendere il punto A un attimo ragazzi così facciamo un po' di punti perché altrimenti ho capito posso mica far tutto porca puttano Comunque stai migliorato Sono diventato più bravo ho già fatto sette abbattimenti senza mai morire Ok perfetto posso scendere Magari non così No ma non puoi cadere Ok perfetto Tu hai fortuna Sono un tuo amico da salvare Dov'è? Là il teschio Eh ma così è Ah non ha già saltato Eh dai sono tutti qua Aiuto Datemi una mano Ahia Bastardo Non si fa Non si attacca alle spalle Che schifo Che hai fatto tutto fino adesso Eh lo so Tant Tant Ho ucciso Bene Ottimo Eh uccidi meglio qua Ok No mio amico no Porca puttana Aiuto aiuto RRR Brutto bastardo Ahia Parati Eh sticassero Ah ma stavo scrivendo Ma porca troia Ho scritto Ho scritto Ho capito che sei un vikingo Però Nessuno mi rianima Vero Vediamo Chiedi l'animazione Non c'è nessuno vicino qua Ok il resto è morto No perché tu sei là Perché Ok ho riaffiutato l'animazione Tasta si inizia per rientrare subito Ottimo Perfetto Andiamo Ma cos'è sto casino qua Ci sono rincastrati Un po' Ma che cazzo è Guarda c'è il tuo che ti. Dei Adesso vado se riesco Eh perché comunque Devi considerare che Ah l'esecuzione serve Loro non possono animarti Capito? No 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 Arriva arriva arrivo arrivo Dai che ti animo Dai 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 Non sapeva quel l'altro Arriva quell'altro Ottimo per favore sta morendo quanti cazzo di minimi dagli a questo stronzo oh! esecuzione ottimo via la testa ottimo ecco che non ti passi per la testa qualche idea strano aspetta un attimo tan 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 perfetto esecutiamo anche questo per me posso arrivarlo però anche come lei no non possono ecco ecco a prendere bastardo il mio suo adesso di qua andiamo come cercheremo nell'uno contro siamo noi siamo 2 contro 2 no qui se uno contro 1 ah perchè sono 3 di vedi lo vedi tan aia dai dagli 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 ah si è senza piatto senza piatto attenzione amica attenzione oh cazzo potentissima è forte sta qui eh dagli 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 cazzo non hai tipo qualche superpotere è tipo eh no oh oh attenzione sono in 2 è arrivato l'amico frizz qua attenzione ecco morto morto mo scappa scappo scappo io vaffanculo via 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 aiuto sono in 2 vieni qua affrontami da uomo da donna non ha avuto toh brutta bastardo vieni qua tan 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 campionato oh oh bella ah parati 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 ah ah ok via 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 perfetto dagli 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 no 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 non può scappare vaffanculo che scappi hai capito stronzo 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 ok l'abbiamo ucciso ok l'abbiamo ucciso perfetto ragazzi devi uccidere i minion nemici così loro rimangono lì a tenere la donna vedi vedi abbiamo vinto mamma mia guerriero di principi sono il principio prima di tutto ragazzi il principio sei morto solo una volta ne abbiamo ucciso i 12 non sono forte con la berserker la berserker rompi il ca... e sono morto perchè stavo scrivendo ti vinto no 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 erano in quattro non potevi vincere no però potevo scappare facevo la R la R li butta per terra perchè la allontana cosa ho vinto qua successivo vediamo un po' cazzo ho vinto ah ma vedi vedi non posso sbloccare l'eroe prima comunque avrei più durata in modalità vendetta con questo è il mostrano ma hai meno resistenza debò ecco diciamo la berserker va benissimo in mischia va benissimo in mischia perchè appunto da colpi in continuo l'ha fatto in tantissimo fiato e invece quelli più grossi secondo me servono nell'uno contro uno eh ma sono sempre i tancosi comunque e i tancosi ma non vorrei fare sempre il tanker vabbè ragazzi lo direi che il video può finire qua perchè tanto comunque avete visto già la partita un'altra dovrebbe altri 10 minuti la prossima io vorrei comprare un champion nuovo compro la berserker compro la berserker non uno che non ho mai usato va bene compro uno che non ho mai usato compro il cavaliere quello con la spada fortissima ciao a tutti ragazzi e al prossimo video ciao ciao